Il Casoria di Laga al Barassi di Secondigliano contro il Real Grumese, siamo in compagnia del direttore generale Carlo Cristarelli. Direttore, la partita, come abbiamo chiesto al mister, è che bene o male tutti quanti si aspettavano. Ma intanto al di là del risultato, io voglio dire che fin quando siamo stati sul 2-0 ho visto una squadra, il Casoria, non sempre concentratissima, non sempre al massimo, quindi mi piace anche, come dire, di trovare aspetti su cui migliorarci anche quando si vince. Poi la Real Grumese è calata tantissimo e noi abbiamo, come dire, avuto vita facile. Mi dispiace anche, sinceramente, per il passivo per i ragazzi della Real Grumese, che secondo me sono una squadra che comunque ha tutto per potersi salvare e auguro anche alla Real Grumese di raggiungere questo obiettivo. Detto ciò, ripeto, sì, poi dopo abbiamo giocato sul Velluto, si può sempre migliorare e dobbiamo continuare a migliorare, perché non è in queste partite che io mi esalto più di tanto, sinceramente. Oggi hanno trovato spazio anche i più giovani, come Nicola Formato e Arcangelo Indaco. un chiaro segno anche su investimenti futuri che vuole fare la società. Ma intanto sono due ragazzi che si allenano sempre con grande impegno, che danno tutto e che soprattutto stanno dimostrando una grandissima serietà, nonostante la loro giovane età. Quindi ragazzi maturi che meritano anche questo premio, che meritano anche loro di avere del minutaggio. E devo dire che non mi sono neanche dispiaciuti. E' vero che sono entrati in una fase della partita in cui non era difficile, come dire, giocare bene, però lo hanno fatto con serietà, con maturità e io invito tanti ragazzi a prendere esempio da loro perché sanno stare nello spogliato e questo è anche importante. Infine una domanda sulla classifica, no, della Casoria che staziona al secondo posto. In questo momento si sta giocando Virtus Liburi a Bacoli, Bacoli conduce per 1-0 e il Casoria guarda al Bacoli o fa più attenzione a non perdere punti? Allora, noi abbiamo un obiettivo in questo momento che realisticamente è il secondo posto e farlo anche con quanti più punti è possibile perché questo ci può dare dei vantaggi in chiave playoff. Del Bacoli non mi interessa perché io credo che sia difficile che il Bacoli possa perdere 5 punti. E' chiaro che noi un po' di speranza ce l'abbiamo sempre, ma non dobbiamo guardare al Bacoli. Io guardo il fatto che la Cerano oggi ha pareggiato, io guardo il fatto che oggi Ponticelli e Albanova hanno pareggiato e quindi abbiamo guadagnato 2 punti su tutte queste. Queste sono le squadre che io guardo, sinceramente da queste dobbiamo prendere le distanze, dobbiamo cercare di allungare, del Bacoli sinceramente non mi interessa perché io sono convinto che alla fine Bacoli e Casoria riusciranno comunque entrambe ad ottenere l'obiettivo.